Nel ultimo consiglio di amministrazione abbiamo deciso di avviare un nuovo progetto di comunicazione che di fatto è già partito e che prevede l'impiego della web tv per realizzare poi una serie di clip di video in cui a turno tutti gli operatori e tutti i soggetti che gravitano intorno al mercato di Novoli avranno modo di creare un proprio palcoscenico, quindi di trasmettere dei messaggi, dei contenuti che a loro premono. Qualche volta si tratterà di illustrare la frutta e la verdura di stagione, qualche altra volta magari di illustrare dei progetti e delle iniziative e ci aspettiamo anche che qualcuno trovi un luogo dove sfogare magari le proprie critiche e le proprie lamentele. Ecco, questo chiaramente è uno spirito costruttivo. Quindi invito tutti quelli che operano all'interno del mercato e che hanno interesse ovviamente a partecipare alla registrazione di questi clip, a contattare la segreteria di Mercafir in persona di Elena Barucci in modo che si possa creare poi un calendario anche di registrazioni e tutti abbiano poi la possibilità di esprimere il proprio punto di vista su quello che è il mondo Mercafir.